Come dicono, gli youtuber veramente bravi, ma molto bravi, eh, quelli molto più bravi di me. Io questo video non lo volevo fare, questo video non volevo farlo. Io questo video non è che non volevo farlo, non pensavo di farlo, perché mi ero già tutto programmato, oggi pomeriggio usciamo dopo pranzo con la conferenza stampa di Tiago Motta e siamo tutti belli, tranquilli e contenti. No, no, perché non ce n'è più riposo che doveva valere per i calciatori, in realtà vale per tutti i tifosi juventini. Guai a voi, siete al mare, una domenica d'agosto, passi, passi, perché qui da un momento all'altro può succedere il patatrack. Ieri abbiamo visto tre video, oggi saranno minimo due con la conferenza stampa e poi chissà. Perché ha ragione il mister, ha ragione Tiago Motta, durante la conferenza stampa si parla della partita e sapete bene che quando ci parla della partita per me è sacro, ma in questo momento con il mercato veramente gli sgoccioli siamo a cinque giorni praticamente e mezzo alla chiusura del calciomercato, non possiamo stare in silenzio. A maggior ragione se le notizie che arrivano sono notizie bomba come queste. Intanto abbiamo una piccola precisazione, anzi, intanto abbiamo Nico Gonzales, prima della precisazione abbiamo già Nico Gonzales alla Continas. È arrivato ieri notte, in questo momento sta sostenendo le visite mediche, sicuramente ci saranno domande su di lui in conferenza stampa, sicuramente Tiago Motta non risponderà a quelle su Consei Sao che invece arriverà stasera per sostenere le visite mediche domani. Sono sincero, dubito che verrà aggregato Nico direttamente a questa partita o magari al limite andrà in panchina. Però vediamo, perché poi le tempistiche sono un po' particolari, bisogna anche vedere i discorsi di nulla osta, di ufficialità, eccetera, eccetera, eccetera. La Juventus domani sera giocherà una partita a Verona, però secondo me Nico Gonzales non sarà presente nonostante la sua disponibilità già al trasferimento, alle visite mediche, a essere tesserato e tutto quanto. Però queste sono cose anche un po' burocratiche di tempistiche che magari proprio Tiago Motta andrà a spiegarci nella conferenza stampa di oggi. Però buttarlo così nella mischia senza nemmeno un allenamento, maggior ragione che un allenatore come Tiago Motta che in realtà fa dei pattern di gioco veramente il suo pane quotidiano, sembrerebbe quantomeno anche bizzarre. Però vediamo, dai, queste sono tutte chiacchiere. E poi c'è la puntualizzazione appunto legata a Francisco Consei Sao, perché ieri ne avevamo parlato, c'eravamo anche detti stupiti di quella che sembrava essere la formula, cioè 7 milioni di prestito secco più 3 di bonus. E ci eravamo detti, beh, io capisco il discorso relativo alle tempistiche, però è sicuramente una trattativa, una volontà strana per la Juve, un'operazione strana. E infatti non poteva essere così, perché all'interno di questi soldi è compreso anche lo stipendio del ragazzo. E questa sicuramente è un'ottima notizia, Consei Sao non guadagna chissà quali cifre, però ovviamente pensando di non dover nemmeno tirar fuori dei soldi in più per pagare lo stipendio, che è sempre considerato a parte rispetto a quelle che sono le cifre invece per il cartellino, per i prestiti, eccetera, eccetera, beh, per la Juve è un'ottima notizia. Subito dopo, anzi un paio d'ore dopo che ho caricato il video, è iniziata a circolare questa voce, che ha trovato conferme, di una clausola recessoria presente nel contratto di Francesco Consei Sao. L'anno prossimo scatterà questa clausola dal valore di circa 30 milioni di euro. Questa clausola è valida per tutti. Ho letto tanti che stanno dicendo «Eh, allora adesso ha più senso». Sono sincero, per me non ha tantissimo senso comunque, e vi spiego il perché. La Juventus aveva necessità di tesserare questo calciatore. Giuntoli lo stava seguendo da tanto, per la Juve con Seysao era uno dei nomi principali sul taccuino. Questo è un dato di fatto. Arriva per non essere un titolare inamovibile, arriva per essere un giocatore in aggiunta alle rotazioni, perché la Juventus andrà a fare una stagione lunghissima, e pesantissima, e difficilissima, e elevissima, e avrà bisogno di tanti giocatori anche di qualità, come Consei Sao. Però questa clausola, che ripeto, è aperta a tutti, significa che l'anno prossimo poi la Juventus dovesse scegliere di tesserare il calciatore, dovrà andare comunque a riconoscere 30 milioni di euro al porto. Non verranno scalati. Non è che 10 te li ho già dati, quindi da 30 te ne do 20. Non funziona così. Poi però ci sono delle piccole cose che si incastrano dal punto di vista anche solo banalmente dei rapporti che la Juve può avere col porto. Si parla di una prelazione, di un accordo verbale, quindi scritto anche, magari, non solo verbale, ma anche scritto, di un accordo di prelazione tra Juventus e Porto, della serie. Se l'anno prossimo arriva Manchester United e offre 30 milioni della clausola di Consei Sao, il Porto, prima di accettare, giunto lì, hanno offerto 30. Li offri anche te? Se li offri anche te, te lo tieni. E rimane a Torino. E tutti belli e contenti. Quindi sicuramente la prelazione è qualcosa di buono. Poi, ribadisco, se lo vuoi, sempre 30 milioni devi pagare. Però è anche vero che, al di là del fatto che il ragazzo sicuramente, se si trova bene a Torino, avrà anche lui la volontà di rimanere e quindi di rifiutare anche altre offerte, perché la clausola dell'accessoria non significa che se lo United offre 30 allora il Porto li lo vende. Consei Sao deve comunque accettare la destinazione per forza di cose. Quindi sicuramente il ragazzo può avere anche lui, oltre al Porto, una volontà di sposare prima il progetto Juve, ma una cosa che secondo me è veramente la principale in un'operazione di questo tipo è questa. L'anno prossimo, se vuoi andare a prenderti con Sei Sao a 30, te lo vai a prendere a scatola chiusa. Cioè non sai che cosa c'è dentro, è come una mystery box. Invece, se l'anno prossimo decidi di andare dal Porto in sede con una valigetta con 30 milioni di euro, significa che tu, in quest'anno che hai avuto il ragazzo a disposizione, hai apprezzato le sue qualità, le sue caratteristiche, a tal punto da dire si merita questo investimento. Se invece il ragazzo non manterrà le aspettative, tu hai virtualmente risparmiato 20 milioni. Se il ragazzo invece confermerà le aspettative, ne avrai spesi 10 di più. È una mossa un po' rischi, sembra quasi una sorta di gioco d'azzardo al contrario, perché comunque c'è una grande percentuale di possibilità della Juventus di salvaguardare 20 milioni di euro, però effettivamente è una scommessa. Quindi in realtà è un'operazione che, vista da questo punto di vista qua, da questa prospettiva, può avere molto più senso rispetto a come era ieri. Poi ripeto, non è che se hai la prelazione ti scontano i soldi, quello no. Questi 10 milioni rimangono, se l'anno prossimo tu decidi di non riscattarlo, tu hai speso 10 milioni semplicemente per averlo a disposizione. E sono tanti. Questa va detta. Però effettivamente la possibilità di provare il giocatore prima dell'acquisto è un po' come è stato con Calulu. Praticamente è la stessa trattativa, ma non c'è un diritto, un obbligo di riscatto, ma c'è la possibilità della Juventus di crearselo a 30 milioni. Questa è un pochettino la situazione legata a Cisco con Seisao. Perché vi dicevo che questo video però non pensavo di farvelo? Perché anche ieri ribadivo la logica, io devo andare di logica, la logica dietro al mercato della Juventus. Vi dicevo ragazzi, ma io non credo che oggi la Juve potrà fare dopo Nico e dopo con Seisao pure con Mainers e Sancho. Secondo me sarà uno, quindi o molla con Mainers per andare su Sancho oppure conferma la strada relativa a con Mainers e Sancho lo lascia andare. Vi avevo fatto le quattro ipotesi, nessuno dei due, tutti e due, uno o l'altro. E oggi ragazzi sembra che la prospettiva inerente e a tutti e due stia diventando più concreta del previsto. E questa roba è assurda, per quello vi dico ne parliamo adesso, poi parliamo della partita, c'è la conferenza stampa, quella roba è sacra per me e va analizzata la partita. Però come puoi non parare il mercato se a cinque giorni dalla fine c'è la possibilità di aggiungere anche due colpi come con Mainers e Sancho che sono due giocatori che dominerebbero la Serie A e non posso non parlarne. Con Mainers sappiamo già tutti la situazione. Oggi Fabrizio Romano ha aggiunto un pezzettino anzi ieri notte dicendo che ci sono stati dei club di Premier League che si sono interessati al giocatore ma con Mainers ha detto al primo posto la Juventus al secondo posto la Juventus al terzo posto la Juventus ho visto una clip su Twitter penso che non sia stata creata quella di intelligenza artificiale nel caso mi scuso però ho visto questa clip inerente a Fabrizio Romano e ieri sera c'era stata anche la conferma di Di Marzio c'è lo stesso Nico Schira che ne sta parlando Pedullà sta parlando di un tris con vista su poker ieri Romeo Agresti ha detto attenzione agli ultimi giorni di mercato perché Sancho stanno parlando sia su come è la situazione quella quindi se tutti questi giornalisti sportivi che avranno anche fonti differenti sembrano convergere tutti in un'unica soluzione cioè non arriveranno tutti due al 100% però ha giunto l'intesta sta cercando di capire la possibilità la fattibilità in testa c'ha questa roba qui e allora siamo in ballo balliamo stiamo giocando giochiamo fino all'ultimo secondo di calciomercato io pensavo che dopo la maxi giornata di ieri potesse esserci un po' più di tranquillità invece no invece no perché a quanto pare Giuntoli sta veramente cercando di fare il super colpo ora le strade sono due cioè le prospettive sono queste l'Atalanta deve staccarsi perché io sarei davvero fortemente sorpreso di vedere un'Atalanta che rinuncia 60 milioni di euro per un asset societario che in questo momento è fermo ha bisogno di far ripartire la macchina l'Atalanta che sta facendo anche degli investimenti sempre investimenti 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 tanti giocatori che arrivano io immagino che abbiano già in testa di andare a rifarsi di quegli investimenti con la cifra ferma lì fissa per commendersi quindi lì dipende dall'Atalanta oggi la Juventus è in vigilia di Juve quindi anche tesserando con meners tra 5 minuti difficilmente domani sarà a disposizione se vogliono farci il dispetto di farci perdere le prime due partite di campionato ormai l'hanno fatto vogliono farci perdere anche quella con la Roma del primo di settembre non lo so sarebbe un po' particolare dato che il mercato chiude alle 23.59 59 secondi della notte tra venerdì 30 e sabato 31 quindi ci sarebbe tutta la giornata dopo in mezzo ma sarebbe folle arrivare veramente all'ultima giornata in cui tra l'altro l'Atalanta è impegnata in una trasferta San Siro contro l'Inter sarebbe da manicomio però già la situazione con meners è da manicomio di per sé quindi manicomio più manicomio meno maledetto maledetto basaglia vedremo che cosa succederà invece in seconda battuta c'è Sancio c'è Sancio Sancio deve capire che cosa vuole fare nella sua vita cioè secondo me l'ha già fatto capire vuole andare via dallo United questo è un dato di fatto però dove vuole andare in un club di primissimo livello che gli offre lo stesso ingaggio quindi magari al PSG però bisogna vedere se il PSG farà questa mossa o è attratto è incuriosito anche dalla situazione legata a Juventus e queste sono tutte riflessioni che vanno fatte quindi vedremo quanto lui sarà disposto ad aspettare quanto lui sarà disposto anche a mettersi in gioco in prima persona per ridurre un ingaggio fuori dal mondo per la Juve e nel caso lo aspettiamo braccia aperte con un doppio colpo veramente da una manicomio in attesa in attesa delle uscite perché abbiamo Kostic che sembrerebbe aver chiesto qualche giorno di riflessione alla Fiorentina che dovrebbe aver presentato un'offerta alla Juve sui 6 milioni una roba del genere e chiesa che al Barcellona si sta soltanto attendendo di capire se questo sviluppo ci sarà oppure no ragazzi io dovevo parlarvene un pochettino abbiamo fatto una nostra chiacchierata della domenica mattina vi do appuntamento dopo pranzo veramente colazione pranzo e cena con me ormai ultimamente ma così per un nuovo aggiornamento ma inerente alla partita poi se ci saranno altri aggiornamenti di mercato beh ne parleremo nel tardo pomeriggio bacione like un commento e un'iscrizione al canale ciao a tutti